Dal 26 al 28 aprile ritorna Viviamoci Lento nel comune di Pollica. La manifestazione giunta alla settima edizione ha l'ambizioso obiettivo di far riscoprire una terra magica attraverso il connubio tra le sue radici identitarie e la visione di una contemporaneità capace di fare della cultura il motore per rilanciare il territorio. Un viaggio sensoriale dove vista, udito, palato e olfatto si sposeranno alla perfezione per dare vita a un weekend indimenticabile in Cilento. Si parte il 26 aprile con i percorsi del viandante, il percorso del buon vivere, che il cibo sia la tua medicina, per poi proseguire alle 17 con le attività per ragazzi, giochi dimenticati e ancora alle 19 contrasti di suoni e sapori ad acciaroli. L'ospite musicale sarà il cantante Cristiano De Andrè. Il 27 aprile si replica ancora con i percorsi del viandante e il percorso di Parmenide e Zenone, per poi proseguire con l'attività dei ragazzi, Aquilone in festa e alle ore 19 contrasti di suoni e sapori ad acciaroli, con la partecipazione straordinaria di Ornella Vanoni che accompagnerà il pubblico in un viaggio attraverso la sua carriera artistica, iniziata al piccolo di Milano negli anni 60. Domenica 29 aprile invece si parte dalle ore 11 con contrasti di suoni e sapori ad acciaroli, per poi proseguire con le attività per ragazzi alla scoperta della macchia mediterranea alle ore 16 e 30. In serata alle ore 19 termina il festival presso l'Arena del Mare di Acciaroli che ospiterà Stefano Bollani in piano solo.